La DIN Michelangelo Batty One è una chitarra elettrica a 6 cold e con struttura bolt-on. Il corpo è in alder, il manico è in acero e la tastiera in ebanon con una scala di 25,5 pollici. Dintarsi sono blocchi madreperla. Monta 3 pick up and buckere MG 81-85 SA. Ha un controllo per il tono, uno per il volume e un selettore a tre posizioni. Il ponte è Floyd Rose Original, le meccaniche sono Grover, la grafica è Armor Frame. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.